Il referendum non è di partita di tutti, però c'è una questione che è scoppiata con la Meloni, fratelli d'Italia, che dice che il referendum non serve a nulla, riflessi che ci possono essere politici e lei come replica questo? No, guardi, questa è più una questione mediatica che sostanziale. Giorgia Meloni, da quel che so io, ho detto che i referendum non mi appassionano, dopodiché sa benissimo anche Giorgia Meloni che sono in linea con la Costituzione, non c'è nulla di sovversivo, ma soprattutto voglio ricordare e ringraziare che Fratelli d'Italia in Veneto ha votato il referendum, lo sostiene e sta facendo campagna per il sì.